Fred Film Radio, ottantesima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, sono Angela Cerbi qui con il cast del film Enea, con Pietro Castellitto, Giorgio Guarzo Guarascio e Benedetta Porcaroli. Buongiorno. Buongiorno. Buon pomeriggio. Pietro, questo è un film sulla voglia dei giovani di sentirsi vivi e su questo rapporto di amicizia e di amore tra voi tre, nel senso che tu hai questo amico con cui, cioè non tu, il tuo personaggio, Enea, questo amico con cui passa la vita e con cui decide di compiere un'impresa che non è legale, e nel frattempo ti incontra il personaggio di Benedetta e ti innamori. In questo film ci sono tantissimi i temi che hai buttato lì, che hai cercato di trattare. Come li hai gestiti nella fase di scrittura? Quando creavi? No, poi quando scrivi non è che fai la scaletta dei temi, perlomeno non io. Parti magari da una suggestione, da un'idea che può essere quella appunto della vitalità, del desiderio di sentirsi vivi e che sicuramente riguarda tutti i personaggi del film, soprattutto i giovani, e poi diventa, insomma, i simboli escono, come se poi i personaggi prendono vita e acquisiscono una sorta di forza simbolica che a volte neanche d'aspetti. Ed è successo questo. E il rapporto che c'è tra te e il personaggio di Giorgio, tra te e Valentino, tra noi e Valentino, è un rapporto di amicizia molto intenso, però c'è sempre nei vostri personaggi, anche un po' in quello interpretato da Benedetta, c'è sempre un'inquietudine esistenziale di fondo, come se questa generazione non riuscisse tanto a gestire la vita e a capire la vita. Ho visto male io? Invece quelle prima? Invece quelle prima? Avercene, ecco. Cosa ne pensate di questa mia idea? Sicuramente c'è dell'inquietudine, si dice spesso che i giovani sono inquieti perché il futuro è incerto, io penso che in realtà questo sia un po' una litania dei grandi, in realtà spesso è l'opposto, uno scalpita quando il futuro è troppo certo e i giovani del film vogliono, desiderano l'avventura e soprattutto te ne è Valentino. Poi Eva percepisce che quell'avventura sta diventando una storia vera, tanto per citare le canzoni, che quell'avventura è una storia sbagliata e quindi insomma prova a redimerlo. Infatti il personaggio tuo è quello che capisce meno un po' questo mondo, si trova a conoscere questa persona, questa Enea che è un vulcano di energie però ha anche un lato un po' scuro che lei non riesce tanto a vedere, mi pare, non riesce tanto a gestire, a capire, anche se poi ci si innamora. Sì, io comunque non credo che lei, lo sto pensando ora mentre ne parli, non credo che lei sia veramente ossessionata dal bisogno di capirlo fino in fondo, purtroppo oggi non ha preso le pilloline quelle della macchina, non credo che lei sia ossessionata da questa necessità di capire fino in fondo la zona d'ombra di questo ragazzo che poi ognuno ha, cerca sì effettivamente di portarlo in una, in una, in una, scusami no perché in tutto questo è la centesima, capito, quindi sto cercando di dire anche, formularle in maniera diversa perché proprio cerca di tirarlo fuori da quel piccolo acquario in cui lui ormai è radicato perché lei ha un'altra temperatura, un'altra frequenza e si incontrano, si amano comunque questi due, anche se sono diversi, si amano in un modo o nell'altro e lui secondo me poi va invece verso di lei anche se poi di fatto il destino è già avviato, il destino è già avviato, è troppo tardi, è troppo tardi, senti Giorgio ho una domanda un po', tu è la prima volta al cinema, esordiente, prima e ultima volta, tu sei un cantante e ti fanno cantare un sacco, canti un sacco, è sempre la stessa canzone peraltro, no come è stato adesso a parte questo, qual è stato il tuo impatto col mondo del cinema, ti sei trovato e come sei arrivato? Beh allora nasce da un caso, cioè nel senso non vengo scelto come attore, vengo scelto perché qualcuno, hanno ascoltato le mie canzoni, hanno pensato che appunto la personalità possa sopperire al talento, all'esperienza che uno fa col talento, quindi mi hanno scelto, mi hanno buttato in mezzo, vi assicuro che sono stato molto lusingato, l'ho presa come un'opportunità seria, poi si è scherzato molto sul set, cioè mi sono divertito veramente tanto, è stato una sorta, hai detto serie e hanno riso tutti e due, esatto, comunque è stata una sorta di grande villaggio val tour d'elite, però ci siamo divertiti tantissimo, il complimento che facevo prima a Pietro in conferenza stampa perché lavorare con lui è stato facile, come massimo complimento, quindi è stato veramente, giuro, cioè nel senso io nonostante non ho altre esperienze, sono sicuro che non sarà mai così facile qualsiasi altro film fai con qualsiasi altro regista, perché appunto aveva voglia poi di intraprendere qualcosa con questo attore, cioè era parte della sua vita questo film, non era tipo il film fatto in fabbrica, in serie e quindi diventi anche frustrato con il prossimo, è stata empatia unica e secondo me il risultato si vede. Sì, sono molto d'accordo. Bene, grazie mille, grazie, arriviamo. Grazie. Grazie mille a Pietro Castellito, Benedetta Porcaroli, Giorgio Quarzo Guarascio, per Enea, Festival di Venezia, sono Angelo, per Fred, Festival Insider, grazie mille. Grazie. Grazie, grazie.